La fotografia della Toscana Comune per Comune da oggi è consultabile sul nuovo osservatorio territoriale realizzato da IRPET, l'Istituto Regionale di Programmazione Economica, su richiesta dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica, che è stato presentato in Regione. L'osservatorio è consultabile online sul sito www.irpet.it. I dati socio-economici raccolti saranno a disposizione per la pianificazione dei singoli comuni. Entro il 2019 saranno redatti 150 piani strutturali, 25 dei quali intercomunali, ma non solo. Queste informazioni che IRPET mette a disposizione nel portale saranno accessibili attraverso un clic anche ad altri soggetti, che sono le imprese, che sono i singoli cittadini, che potranno quindi avere una conoscenza più puntuale di quelli che sono i dati socio-economici che riguardano il loro territorio. Tre livelli di informazione per ciascun comune, 11 ambiti tematici, dalla demografia al turismo, e oltre 100 indicatori che raccontano il territorio attraverso dati socio-economici che possono essere scaricati dopo ogni ricerca sotto forma di tabelle o report. Si tratta di un'informazione organizzata, quindi non è un'open data, soltanto dati scaricabili, è una lettura guidata dei territori alla luce dell'esperienza IRPET nella costruzione dei quadri conoscitivi, anche di supporto alla pianificazione comunale. I dati raccolti sul sito e reperibili tramite l'osservatorio regionale IRPET sono costantemente aggiornati.